Sono Elisa Ruotolo e ho pubblicato con Feltrinelli il mio secondo romanzo che si intitola Quel luogo a me proibito. È una storia per me particolare perché rappresenta il ritorno alla prosa dopo una parentesi poetica ed è la storia di una iniziazione alla vita, i sentimenti, raccontata dalla prospettiva di una donna che io chiamo Donna Bonsai. Il bonsai è una pianta che non esiste in natura quindi per ottenerla bisogna alterare, tagliare, potare e anche la mia protagonista è un essere umano alterato da un contesto familiare molto vincolante. Intorno a lei ci sono tantissimi luoghi proibiti proibite la gioia, proibita è per esempio la conoscenza intima del proprio sé, è proibito addirittura del proprio corpo e sicuramente tutto ciò incide sulla vera natura di questo personaggio che nel momento in cui incontra l'amore subisce proprio uno smottamento. Io provo a raccontare sicuramente quanto sia il morale, il dolore nel momento in cui si segue quella che non è la propria natura e soprattutto cerco di rispondere ad una domanda se siamo prodotto della natura o della costrizione, cioè dell'educazione. Ci sono dei padri dietro questo libro, questa storia, sicuramente c'è Dostoievski che è una lettura che credo di poter consigliare soprattutto ai fratelli Karamazov perché in Dostoievski ho sempre trovato quella necessità di dire che noi non siamo solo luce e non siamo solo ombra e che queste due nature possono convivere tranquillamente. E poi ho trovato anche nei fratelli Karamazov quell'affermazione molto vera che dice che probabilmente noi desideriamo più obbedire, delegare la responsabilità anziché scegliere. E oltre a questo libro amo molto anche un'altra storia che poi io ho trasportato nell'esergo della seconda parte del mio romanzo, è J.M. Cozzi che scrive un romanzo pubblicato per Feltrinelli ed è Vergogna, dove questo scrittore dice una cosa molto bella come sintesi della sua storia, cioè che è molto difficile aderire alla morale che è quella corrente, quella che gli altri hanno creato per noi e crea un percorso umano molto interessante, una discesa agli inferi per poterci raccontare quanto sia difficile costruire una propria identità morale.